Valeria Mesticoni, lunedì 3 agosto partono i tirocini grazie al progetto Abruzzo Inclusivo. Sì, finalmente siamo arrivati al momento, al cuore del progetto Abruzzo Inclusivo. È un progetto che è partito qualche mese fa con la selezione dei tirocinanti e poi anche in questo periodo abbiamo fatto un grandissimo lavoro per reperire le aziende che hanno risposto per attivare questi 75 tirocini e sono 63 aziende. Ad oggi sono 63 perché alcune hanno chiesto di poter avere anche più di un tirocinante e quindi finalmente partiamo il 3 agosto con questi tirocini che dureranno fino alla metà di dicembre e speriamo di poter dare a questi ragazzi che hanno partecipato un'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, intanto di imparare e poi di magari un domani poter anche rimanere presso queste aziende se sarà possibile o comunque avere già un curriculum che gli permetta poi di collaborare con altre aziende.